Sono Heinz Peck, sono chef del ristorante La Pergola di Roma e ho anche una società di consulenza, la Peck & Maltese Consulting, con la quale gestiamo numerosi ristoranti nel mondo. Da quasi trent'anni sono a Roma. Amo questa città, amo la cultura italiana e soprattutto il cibo italiano. Perciò faccio una cucina leggera dei sapori mediterranei, una cucina salutare, una cucina di gusto, di emozioni che aiuta a invecchiare meglio. Da sempre ho ammirato gli elettrodomestici di Miele per la loro qualità, tecnologia e longevità. Il mangiare è fondamentale per sopravvivere, però poi ci sono questi momenti meravigliosi nel ristorante quando stai con gli amici, mangi e bevi e ti diverti. Ma la cena non finisce con la fine della serata, finisce l'indomani mattina quando abbiamo dormito bene, quando ci svegliamo in forza e a questo momento ci rendiamo conto quanto sano e preparato bene era il cibo. Per fare tutto questo ovviamente è necessario di avere degli elettrodomestici perfetti che ti aiutano a usare le ultime tecniche per preparare cibi meravigliosi, sani e gustosi. Da qualche mese collaboro con Miele, un brand con il quale dividiamo gli stessi valori. Precisione, sostenibilità, tecnica, innovazione, qualità. A proposito, l'innovazione. L'innovazione è fondamentale per creare sempre cose nuove, sempre cose migliori e sempre indirizzato al benessere e al wellness dei nostri ospiti, perché vogliamo vivere più a lungo e stare meglio e perciò è così importante di guardare sempre oltre. Da sempre sono curioso e faccio ricerca e da più di vent'anni collaboro con medici e università affinché il mio cibo diventa sempre più leggero, più facile a digerire e più salutare. La parte più bella del mio lavoro è la creatività, fare cose nuove, farsi ispirare e l'ispirazione può arrivare dappertutto. Un bel mazzo di fiore, un quadro, una landscape, il mercato. Uno deve essere solo aperto a cogliere impulsi e trasformarli in qualcosa di concreto. Nel caso mio sono dei piatti. www.sale.com.nando.info